Io credo che la corsa a 20 anni sia una corsa importante perché prende una posizione interessante sotto l'aspetto anche di età. Poi la corsa dell'Under 23 è sempre una corsa importantissima perché è difficile stabilire come sarà la gara, chi vincerà, perché i direttanti hanno una tattica e tecnica diversa dai professionisti. Però io ho guardato bene il percorso, la prima tappa sicuramente andranno forti tutti perché è dura ma non è durissima, cioè una tappa in cui si può arrivare anche in volata ma i direttanti creano anche le fughe e credo che ci possa stare. Il secondo giorno mi sembra la tappa dolomitica anche se siamo direi qua in Romagna, non è una tappa che si va ai 2.500-3.000 ma non c'è un momento di respiro soprattutto visto che nel finale c'è l'arrivo su una piccola salitella con una discesina molto forte, ci vuol coraggio e dicono perché in fondo ci vuole anche coraggio andare in discesa e credo che sia la seconda tappa che possa decidere o perlomeno selezionare. L'ultimo giorno direi che si fanno gli scontri come la scherma, insomma al sangue, l'ultimo sangue perché magari c'è qualcuno che secondo a pochi secondi che attacca, viceversa anche gli altri. Io credo che le pesche nettarine sia tre giorni ma la tre giorni è molto molto bella e molto interessante. Praticamente l'ho sempre stata e tutti gli anni l'ho migliore quindi credo che in quest'anno sia certamente qualcosa che tirerà fuori dai corridori che poi dopo sono sempre quelli che passano professionisti. Allora il giro delle pesche nettarine, quest'anno si chiama giro della pesca nettarina, comunque al singolare ma l'organizzatore è sempre Marco Seller, è diventata ed è rimasta la gara a tappe italiana più importante per quello che riguarda gli under 23 del panorama nazionale. Ha un albodoro di grandi campioni e quindi Vittorio Adorni ha già detto quale sarà un po' l'andamento avendo visto quelle che erano le tappe. Ecco, io chiederei rispetto, c'è la possibilità che da questa corsa venga fuori un altro corridore importante visto quello che è anche il panorama ciclistico-dilettantistico attuale? Ma io credo di sì anche perché il ciclismo italiano oltre che non ci sono le grandi squadre professionistiche di prima serie del World Tour, ce ne sono poche, c'è solo la lampra quest'anno, c'è stata una fusione, però io credo che a livello dilettantistico c'è una ricerca direi per il professionismo perché in fondo i campioni non è che nascono da oggi a domani e continuano a vivere. Noi quest'anno abbiamo dei professionisti, abbiamo dei campioni direi sicuramente in Gama, soprattutto Nibali che ha vinto il Tour l'anno scorso, abbiamo il giovane Aro, ce ne sono degli altri che hanno già dimostrato di andare molto forte. Il direttantismo, queste gare come la Pesca e Nettarine sono quelle in cui vengono a vedere i manager del professionismo per poter attingere, per portare dall'altra parte perché il ciclismo è cambiato molto. Non si corre più come una volta negli anni 60 che si correva sempre tutte le domeniche. Questo è un ciclismo più che altro ormai limitato nel senso che qualcuno fa solo le classiche in linea, qualcun altro fa solo il Giro d'Italia, qualcuno fa solo il Giro di Francia, quindi è un ciclismo particolare. Però sicuramente queste gare come le Pesca e Nettarine sono la riserva del nostro professionismo ad alto livello. Sì, infatti guardando un attimo l'albo d'oro abbiamo dei nomi importantissimi, dalla prima edizione del 1996 con Vitali Cocorin, Salvatore Commesso, due volte campione italiano, un nome importantissimo come quello di Ivan Basso nella terza edizione, Petrov Kolobnev, Riccardo Riccò, poi ancora Rubiano Chavez, Damiano Caruso e per le ultime due edizioni Davide Formula, anzi nel 2012-2013 Davide Formula che sta facendo molto bene nei professionisti e Iuri Filosi un altro che è passato nei professionisti. Ora dalla disamina che è stata fatta sulle tappe è vero che hanno tutti dei momenti particolarmente importanti perché anche la prima con Dozze e Montecatone nel finale potrebbe portare un gruppetto, ma è veramente la seconda che sembra di vedere tre cammelli in fila nell'altimetria e Adorni ha già dato un giudizio che sarà la tappa regina. E nell'ultima le salite sono un po' lontane dal traguardo, però voglio dire, sì perché le volture che sono in un chilometro e mezzo, sono 13 tornanti a Castrocaro, sono un po' lontane dal traguardo, ma sicuramente faranno sì che i ragazzi siano molto combattivi. Ecco, questo ciclismo degli Under-23 è particolarmente combattivo, poi magari crea un po' di problemi nel passaggio al professionismo, però abbiamo visto che quelli che hanno vinto il Nettarine, molti sono diventati dei campioni. Un percorso del genere va bene per una gara Under-23? Va benissimo, io credo che anzi più è dura, meglio è perché i corridori vengono fuori grandi. Se noi pensiamo molto spesso dei corridori che sono passati professionisti, che il primo, il secondo anno, magari anche il terzo, non hanno reso quello che potevano dare, poi sono saltati fuori col tempo. Io stesso sono passato professionista nel 61, che quindi sono passati tantissimi anni, però non avevo un curriculum, avevo vinto gare, ma ho fatto il primo e il secondo anno, fatica, poi dal terzo in avanti ho cominciato a trovare. Invece ci sono molti corridori che vincono tantissimo a Dillettante, che poi non riescono a inserirsi al professionismo. Sono due cose molto diverse, due tattiche diverse, le gare sono più lunghe. Basta pensare al Giro Italia, la prima settimana vanno forti tutti, tutti, tutti sono là a lottare per la classifica generale. La seconda settimana si taglia già metà gruppo che salta fuori, sulle salite ce ne sono solo 30-40. La terza settimana sulle salite ci sono 4-5 e si decide il giro. Cioè è una questione poi di fisico che viene fuori quando la corsa si fa dura. Ancora una cosa, Marco Selleri tira sempre fuori dei conigli dal cappello, perché per esempio nella seconda etapa, Lugo Castelderrio, da quello che leggo qui, Ponte Alidosi, credo gli faccia fare un ponte medievale unico nel suo genere, perché è ad arcata unica, schiena d'asino, io una volta sono arrivato in cima e non ho avuto il coraggio di scendere. Vabbè che i corridoi, i ciclisti, i professionisti e gli under 23 ormai lo sono, non hanno paura di niente. Non solo, ma Marco Selleri nella sua strada bianca di Romagna quest'anno la farà in notturna dalle 8 di sera a mezzanotte, all'1, alle 2, quando gli ultimi arriveranno, quando arriverò anch'io insomma. Ecco, queste particolarità con la salita della Maddalena, con Monte Morosino, che noi chiamiamo Gesso, sono scalate da fare tre volte. Queste particolarità vanno bene, caratterizzano una corsa, cioè è bene tirar fuori queste cose improvvise che magari i corridori non si aspettano oppure non si vedono di buon occhio. Ma io credo che sia giusto fare così, anche perché se noi pensiamo delle volte nelle tappe troppo dure, troppo lunghe, troppo dure, anche nei professionisti vanno piano alla prima parte della corsa, perché hanno paura poi di non arrivarci. Mentre se la corsa è, direi, non durissima, ma impegnativa con salite sui saliscendi, alla fine la partenza è veloce, è veloce tutta la corsa e sicuramente il finale diventa più duro che se fosse una tappa dolomitica. Io credo che questa seconda tappa sia la tappa non decisiva, forse che non la sarà, però sicuramente sarà la più bella tappa di questi tre giorni. Bene, quindi invitiamo tutti con l'esamina che Vittorio Dorni ha fatto del percorso e della corsa quest'anno il ventennale, il ventesimo giro ciclistico Pesca e Nettarina di Romagna IGP. La presentazione verrà fatta al Palazzo Lidosi di Castel del Rio, sabato 9 maggio alle ore 16.30. e credo che proprio chi si metterà sulle salite per vedere il passato dei corridori non avrà assolutamente di che pentirsi perché sarà una gara molto combattuta. Grazie a Vittorio Dorni, campione del mondo a Imola nel 1968. Grazie a voi. Grazie a voi.